Azzurri bianchi C'è un periodo dell'anno, è prima del sorteggio, è un periodo dell'anno dopo il sorteggio e adesso si comincia a pensare alle partite del calcio in costume, c'è già una bella aria frizzantina E fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua chiesa Trecento e qualcosa sono Assodate tutte come si vuol dire, avete preso un uovo benedetto? Sì, certo, è tradizione prenderlo, è una bella cosa Hai preso l'uovo? Sì, sì ho preso l'uovo, è stato un gesto molto bello, sono felice di averlo ricevuto nell'attesa della Colombina Voglia di pace, è la seconda Pasqua con la guerra in Ucraina ma anche voglia di ridare tutta la forza alle nostre tradizioni secolari Volo perfetto Dai, salute, salute E speriamo che il lavoro vada bene Bene Bene, prossimo anno Dovrebbe andare bene tutto, no? Fortuna, giusto? Ma cosa sperate? Ma Spero e porterà la fortuna a tutti noi per un posto più pacifico La pace per tutto il mondo, pace per tutto, la guerra e tutto il resto Da dove vieni? Io da Torino La prima volta? Sì, è la prima volta On YouTube Today it's real I know, I really enjoyed it, it was great, I'm glad we came, we've been here about three hours I know, yeah No, no 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 Grazie a tutti.